Ipidia.it è già un successo. Ipidia.it. Ogni giorno migliaia di clienti cercano soluzioni di arredamento su Ipidia.it. Ipidia.it. La prima guida ai negozi d'arredamento di eccellenza. Su Ipidia.it ogni giorno promozioni su mobili dal design internazionale, firme prestigiose e tutti i contatti dei migliori operatori italiani provincia per provincia. Ipidia.it. Il motore di ricerca di riferimento nell'arredamento d'eccellenza, con i migliori arredatori in tutta Italia. Ipidia.it.